La totalità dei gioielli rubati nella rapina all'Hotel Ritz di Parigi il 10 gennaio scorso è stato ritrovata, è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta, citate dai media francesi. I gioielli e gli orologi di lusso ritrovati erano all'interno di un sacco, recuperato dagli agenti di polizia. Il valore dei beni è stimato tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. L'irruzione, tutti i gioielli rubati sono stati trovati nella borsa sequestrata ieri dai funzionari di polizia, ha confermato una fonte vicina alla polizia, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Nel frattempo però si comincia a ricostruire la dinamica della rapina e della fuga immediatamente successiva. Sono circa le 17,30 del 10 gennaio quando tre uomini mascherati entrano nell'Hotel dal retro dell'edificio, in Rue Cambon. Armati di asce e pistole, rompono le vetrine dei negozi e si appropriano di gioielli e orologi di lusso, ma quando cercano di scappare scoprono che le porte sono state bloccate. Ovviamente in questo tipo di struttura esiste un sistema particolare di sicurezza, ha commentato una fonte della polizia. La fuga ai tre uomini quindi gettano le borse con l'are furtiva dalla finestra a due complici che aspettano fuori. Uno dei complici fugge in auto, un altro in moto. Quest'ultimo perderà una delle borse contenente parte del bottino prima di sparire, prendendo la Rue Cambon in senso contrario e investendo anche un passante. L'auto è stata trovata il mattino seguente nel dipartimento della Val d'Oise, a nord della capitale. Nel frattempo, una pattuglia della polizia da Place Vendome arriva sul posto e blocca i tre ladri ancora nell'hotel. Francesi, sui 30 anni, erano già conosciuti dalla polizia per furti e rapimenti. Le hotel mercoledì sera, il ministro degli interni Gerard Colombe e il commissario di polizia Michel Del Pueck si sono immediatamente congratulati con Twitter della polizia che ha arrestato i tre presunti ladri. Ma l'accaduto non è stato meno dannoso per l'immagine di uno degli hotel più prestigiosi della capitale. Di proprietà dal 1979 del miliardario egiziano Mohamed Al-Fayed, il Ritz ha riaperto a giugno 2016 dopo quattro anni di lavoro. Il palazzo, inaugurato nel 1898, dispone di 142 camere e suite. Contattato da AFP, la direzione del Ritz non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Shadow Carousel nel 2014, la sicurezza del quartiere era stata rafforzata dopo una serie di rapine brutali in diversi gioiellerie di lusso a Place Vendome, dove anche il Ministero della Giustizia. Il luogo aveva poi subito cinque rapine a mano armata in meno di sette mesi, per danni compresi tra 420 mila e due milioni di euro. La rapina più drammatica degli ultimi anni risale all'ottobre 2016. La star americana Kim Kardashian era stata rapinata da cinque uomini in un altro hotel di lusso nella capitale, dove era giunta per partecipare alla settimana della moda. I ladri, che l'avevano minacciata con un'arma prima di legarla e bloccarla in bagno, erano poi fuggiti con una refurtiva di 9 milioni di euro. 11 gennaio 2018 Modifica il 12 gennaio 2018 1 e 34 diritti d'autore Riproduzione riservata Segui Corriere su Facebook Grazie Grazie